bello 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 bravi ragazzi grazie ragazzi la reazione a caldo poi entrerò un po meglio nella partita durante la settimana e però e magari anche un po' di tutto quello che sta succedendo succedendo in questo sei nazioni under 20 no sei nazioni mondiale under 20 ovviamente scusate bravi ragazzi l'anno scorso ci hanno regalato il Sudafrica quest'anno ci regalano l'Australia e come di nuovo in una partita sotto la pioggia in una partita di nuovo epica dove ovviamente ci siamo imposti anche grazie alla mischia per oggi c'è stato secondo me molto più della mischia nel senso che gli avanti hanno fatto un lavoro strepitoso anche nel gioco aperto cioè nel lavorare magari spesso a un passaggio però nel lavorare nella conservazione del pallone nei sostegni era facile fare tanti errori lì e invece alla fine nel complesso degli 80 minuti hanno limitato gli errori e poi perché no anche nella gestione del meteo perché ovviamente non è che lo abbiamo deciso noi quando e dove dovesse andare il vento però secondo me l'Italia è stata abbastanza brava a in qualche maniera leggerlo sì nel primo tempo un paio di calci di Brisighella che nel complesso ha fatto un'ottima partita di cui io mi tengo soprattutto il grillo talpa nel secondo tempo perché quando vedo un'apertura andare a mettere le mani mi si apre il cuore e e poi nel quindi insomma la settimana scorsa abbiamo visto Pucciariello questa volta abbiamo visto Brisighella le partite erano diverse però oggi a me Brisighella è piaciuto ecco diciamo questa cosa qui per il resto ci sarà comunque ancora competizione per la maglia così come mi è piaciuto di più Casiglio rispetto a Jimenez la settimana scorsa Casiglio secondo me ha fatto veramente una bella partita ogni tanto ha tirato qualche pallone fuori dalla rack un po' impreciso qualcuno troppo forte qualcuno basso però nel complesso ha lavorato bene con il calcio della base e anche nella gestione comunque degli avanti di personalità bravo mi è piaciuta la partita della nostra mediana alla fine tutto tutto compreso e i tre quarti hanno lavorato anche nell'andare perché non è che ci si può aspettare dai tre quarti in questa partita in fuochi d'artificio però difensivamente secondo me hanno tenuto bene il contatto da questo punto di vista fatemi sottolineare il lavoro di elettri che va a pescare un paio di palloni uno insieme a siciliano e uno da solo anche lui quando vendo vedo i tre quarti che vanno lì a lavorare bene sul punto d'incontro è sempre una gioia Belloni è scappato un paio di volte a tutti hanno tirato qualche qualche discreta pedata anche capendo quando alzarla e quando tenerla bassa poi per il resto la partita è stata molto ma molto ma molto condizionata dal tempo e l'Italia l'ha gestito meglio nel primo tempo dove può essere stati una vita nel nella loro metà campo riusciamo a segnare e andiamo due volte a tanto così una volta sfugge il pallone nel nel momento del grounding se non sbaglio a Bellucci ma potrei sbagliarmi un'altra volta invece la tengono alta e poi è Bellucci questo sì che va a mettere a mettere la palla in meta dopo una serie prolungata di percussione Brisighella è bravo a trasformare e poi nel secondo tempo nel secondo tempo quando pensiamo che la partita girerà ci salva prima di tutto il TMO che chiama un crocodile roll su Sowers che nel primo tempo aveva pescato un po' di palloni quindi ci liberano di allora innanzitutto era una situazione dove loro avrebbero avuto il pallone nella nostra metà campo quindi ci tolgono un giocatore loro un buon giocatore loro e andiamo dall'altra parte e da quella situazione di superiorità numerica poi arriverà la meta di la meta di molle con siciliano quindi insomma diciamo che quello è veramente un turning point della partita e momento in cui l'Italia si porta avanti 14 a 0 e lì scaviamo il solco che poi ci porterà fino al traguardo loro vengono a segnare subito con otto con otto Ottavio Tui Pulotu il più piccolo dei tre fratelli Tui Pulotu piccola nota margine e azzurabile quindi questo ragazzo se non arriverà eventualmente ai Wallabies potrebbe perché no pretendere alla maglia azzurra però insomma davanti c'ha un bel poticente compresi i nostri che hanno giocato bene oggi il discorso dei tallonatori è sempre il solito aia la rimessa laterale oggi pioveva c'era il vento la rimessa laterale come abbiamo detto anche in chat è un lavoro di reparto non è un lavoro singolo per oggi non ne abbiamo azzeccata una cioè le prime due sì ogni tanto si andava su bello il lavoro in mall quando si diceva decideva di andare su Midena per lasciar lavorare scusate ho detto sì su sì su 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 Mirenzi su Mirenzi per lasciar lavorare Gritti in spinta Gritti quel lavoro l'ha fatto molto molto bene all'interno della mall però poi a parte quelle il resto abbiamo fatto fatica molta meno fatica invece la mischia un paio la prima non la capiamo ci allunghiamo troppo poi l'arbitro chiede una spinta dritta che però poi alla fine arriva e allora ragazzi io vi dico una roba che sia Gallorini che sia Pisani che sia Scari il risultato del il risultato non cambia invertendo i come era quella roba lì invertendo i denominatori il risultato non cambia e allora questo ci dice che abbiamo una bella batteria di piloni anche per il futuro da cui scegliere perché abbiamo passato due anni a dire quando arriverà Gallorini gli auguriamo tutto il bene del mondo però magari arriva Scari magari arriva arriva Pisani e insomma abbiamo un bel numero di piloni destri che potrebbero iniziare piano piano a bussare poi al piano di sopra e non sto parlando di nazionale sto parlando di franchige eccetera eccetera bello bello vedere un under 20 che comunque sia chiunque tu metti lì a pilone destro e dominante in mischia bravi ragazzi e bravo anche il il coaching staff perché questo è un lavoro che non si costruisce così da un giorno all'altro no io credo che parta da quando c'era Cavalieri ad allenare la mischia degli azzurri e forse ancora prima e loro appunto ci segnano subito dopo contro i pulotto ehm al sessantunesimo si riavvicinano riescono a andare a segnare in bandierina con lì e lì dici caspita il momentum è tutto dall'altra parte e invece lì sono bravi ragazzi perché partendo da delle situazioni di mischia quindi mischia penalità poi c'è una situazione di gioco aperto dove appunto Brisighella va a fare un una pescata molto importante ci si mette di là e si gestisce bene anche il tempo mi sono piaciute anche quelle ultime chiamate di mischia quando si sarebbe potuto andare a pali e magari dici bene stringo il sedere mi porto avanti a più cinque perché rischiare qualcuno avrebbe gridato pali 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 invece ragazzi decidono di restare lì decidono di gestire loro il loro destino non darlo in mano agli australiani restare lì tenendo gli australiani lontanissimi dall'obiettivo dalla linea di meta a volte va bene a volte va male si potrebbe poi ragionare sul sulla scelta per me è giusta per qualcuno può essere meno giusta alla fine paga comunque perché riescono a prendersi una seconda penalità col tempo ormai scaduto dopo riescono anche a segnare tre punti aggiuntivi che vedi mai ci possono essere comodi anche in caso di differenza punti differenza punti che sarà da ragionare con il quello che succederà nell'ultima partita o forse no la giorgia ve lo dico allarme spoiler se non lo volete sapere non ascoltate questa parte qui la giorgia ha perso ventidue a sedici con l'irlanda io non ho visto la partita cercherò di guardarla ventidue a sedici significa che comunque sono stati lì e e non sarà una partita semplice no non sarà una partita semplice giorgia che con l'australia aveva ehm giorgia che con l'australia aveva perso 35 a 11 poi riesce ad andare vicino al alla all'irlanda l'avevamo detto che questo sarebbe stato un mondiale equilibrato ne parleremo nel suo complesso un po' più avanti vediamo adesso che cosa succede nel nell'ultima partita che sarà decisiva e sarà il 9 luglio quindi 9 luglio andiamo a vedere un attimo il calendario non mi si apre dai apriti ah ecco 9 luglio che sarà quindi martedì quindi è probabile che riuscirò a fare la live non è in contemporanea con nulla 9 luglio martedì alle 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 4 e mezza dovrei riuscire a fare la live bene ragazzi io vi mando un grande grandissimo bacio ancora un bravo bravo bravissimo ai nostri ragazzi e ci vediamo domani mattina alle 6 con la maggiore che sfida Samoa ciao 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 ciao